Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfio Zappalà e oggi siamo in un nuovo video. In questo nuovo video vi spiego come cambiare la crittografia dell'hotspot su Android. Andiamo su configurazione hotspot e qui ci appare questa schermata. Andiamo a toccare tipo crittografia e ci sono due voci. Quindi nessuna se volete rendere il vostro hotspot senza password. Ma io vi consiglio di lasciarlo su vpa2psk perché se io lo metto su nessuno il campo password sparisce. Ma se io invece lo rimetto lo metto e torna. Bene ragazzi con questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e le notifiche. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.